Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 12 minuti più il tempo di congelamento. Gli ingredienti sono cacao amaro, cioccolato fondente, tuorli d'uovo, panna, zucchero e latte intero. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo vidiricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Aggiungiamo nel boccale il cioccolato fondente, lo andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 8. Finiamo sul fondo il cacao, il cioccolato scusate. Andiamo ad aggiungere il resto degli ingredienti, quindi la panna, il latte, le uova, lo zucchero e il cacao. Andiamo a cuocere il tutto per 8 minuti. 90 gradi, velocità 2. Il nostro composto è pronto. Adesso lo andremo a trasferire in dei contenitori per il ghiaccio. Dopo aver riempito i nostri contenitori andiamole a posizionare in freezer per almeno 8 ore. Trascorse le ore di congelamento andiamo a mantecare il gelato all'interno del nostro bimbo. e lo andiamo a mantecare per 10 secondi a velocità 4. Andiamo a verificare la consistenza del nostro gelato. Il nostro gelato è pronto, andiamo a metterlo in delle coppette. Gelato al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie.